Particolo oggi era la prima partitella, partita, partitella, quindi siamo ancora un po' all'inizio però è giusto farlo perché poi alla fine è quello che serve anche per conoscere i nuovi compagni, anche le idee del mister, quindi piano piano cerchiamo di arrivare al punto giusto. Ero sicuro che sarei ripartito da qui, quindi è stata abbastanza serena, ho seguito le vicende, però il mio pensiero è ancora quello di calciatore per fortuna e quindi sapevo che poi le cose sarebbero sistemate perché vogliamo fare tutti bene, vogliamo rimanere tutti alla stessa parte, quindi adesso il nostro compito è quello di mettere benzina nelle gambe, è quello che stiamo facendo, come ho detto prima conoscerci con i nuovi e far integrare anche i più giovani, aiutare il mister nel suo lavoro e andiamo avanti. A quello si vedrà alla fine quando è il campionato, se malgrado dovesse mancare un punto ha un obiettivo qualsiasi, però non deve essere il pensiero iniziale già con l'ansia di partire almeno l'importante è partire bene, quindi lavorare e arrivare il meglio possibile all'appuntamento che contano. Le sensazioni sono positive, penso ancora un po' da giocatore, però ci sta, non è una cosa per forza negativa, quindi vediamo ancora, abbiamo fatto poco, stiamo facendo corsa appunto, mettere benzina nei gambe, quando inizieremo a fare un po' più di tattica, cose specifiche in campo, vedremo le sue idee, però ci ha già fatto capire come dovrebbe essere l'impronta che dobbiamo dare quando scendiamo in campo.